Sono Elena Landollo e sono la responsabile della Residenza San Luigi Gonzaga di Gorba Minori in provincia di Vanese. La RSA è accreditata con Regione Lombardia ed è contattualizzata con la TS in Suria. Le camere sono disposte su tre piani e sono tutte camere doppie o singole con bagno dedicato. In totale ci sono 150 posti letto, di cui 22 in nucleo protetto Alzheimer, anche a suo apprenditato. In rispetto della normativa regionale viene attuato un lavoro d'equipo multiprofessionale, composta dall'equipo medica sanitaria, l'equipo infermieristica con il coordinatore infermieristico, il personale assistenziale ASA o OSS debitamente formato, i fisioterapisti e gli animatori. Un ultimo punto di forza della struttura è il fatto che abbiamo aderito all'iniziativa di Regione Lombardia chiamata RSA Averna, che permette ai nostri operatori di sperimentarsi anche uscendo dai muri della struttura e andando ad accupire la persona al proprio domicilio sfruttando un voucher, quindi un finanziamento regionale.